Al bar invece che al lavoro scoperti otto furbetti del cartellino. Si masturbava davanti a una ragazza fanese denunciato per atti osceni. Dal sisma alla riparazione, lavori per riaprire la chiesa dei cappuccini. 1800 borracce donate per incentivare il consumo dell'acqua del rubinetto. Dal coma al titolo italiano, la parabola sportiva di Manzini. Buona serata e ben ritrovati su Rossini TV. Benvenuti al nostro telegiornale in questa prima edizione delle 19.40 che poi potrete vedere in replica anche alle 20.40. Oggi è mercoledì 21 dicembre e apriamo con la cronaca in particolare con un'operazione della Guardia di Finanza di Urbino che ha scoperto e denunciato un ente pubblico in cui i dipendenti si assentavano sistematicamente dal lavoro in maniera ingiustificata. Vediamo tutto in questo servizio. Andavano al bar, al ristorante o semplicemente a farsi gli affari propri invece di essere sul posto di lavoro. La Guardia di Finanza di Urbino, su indagine coordinata dalla locale procura della Repubblica, ha denunciato otto cosiddetti furbetti del cartellino. Vale a dire otto dipendenti di un ente pubblico responsabili di assenteismo ingiustificato dal loro luogo di lavoro. Otto persone che nello specifico sono accusate di truffa aggravata continuata, falsa attestazione in servizio, abuso d'ufficio, frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico. Nel corso delle indagini è stato acquisito un consistente materiale probatorio nei confronti dei dipendenti segnalati i quali si sarebbero allontanati ingiustificatamente dal posto di lavoro durante l'orario di servizio omettendo di far risultare il periodo di assenza mediante la timbratura del badge. I sopralluoghi dei finanzieri hanno rilevato come gli assenteisti si recassero in bar e ristoranti di Urbino e talvolta registravano tramite badge gli ingressi e le uscite dal luogo di lavoro non rispettando l'orario settimanale previsto contrattualmente e maturando così un sostanzioso deficit di ore lavorative. Nonostante questo percepivano lo stipendio per intero. Lo stesso funzionario incaricato della gestione dei badge è risultato coinvolto nelle false rendicontazioni degli orari svolti. Implicato anche il responsabile dell'ufficio amministrativo che oltre a non svolgere l'attività di controllo partecipava agli stessi comportamenti assenteisti. In questo mese di dicembre la procura della Repubblica di Ancona alla quale era stato trasmesso il fascicolo per competenza su questi specifici reati ha emesso un avviso di conclusione indagini. Indagini che sono state segnalate anche alla magistratura contabile per valutare il danno erariale emerso. Da Urbino ci spostiamo a Fano dove la polizia è intervenuta in aiuto di una ragazza del quartiere Santorso che rientrando a casa di sera ha trovato davanti a sé un uomo intento a masturbarsi. Rintracciato l'individuo in questione gli agenti hanno notificato una sanzione amministrativa per atti osceni in luogo pubblico che può arrivare fino a 10 mila euro. La stessa polizia di Fano nel weekend ha anche intensificato i controlli notturni nei luoghi della Movida durante i quali è stato identificato un ragazzo dell'est Europa trovato in zona Bellocchi in evidente stato di alterazione alcolica. Ragazzo al quale è stata notificata una sanzione di 102 euro. Stessa infrazione per ubriachezza molesta per un giovane fanese che si trovava in via Roma. E in questo spazio dedicato alle vostre segnalazioni vi ricordiamo sempre di salvare sul vostro cellulare il nostro numero whatsapp che state vedendo in sovraimpressione. In questo spazio come dicevo vi mostriamo le foto di un incidente stradale avvenuto questa mattina in zona Tombaccia all'angolo fra via Terni e via San Marino. La telespettatrice che ci ha inviato questa foto che chiaramente ringraziamo ricorda come questo non sia il primo incidente che avviene a quell'incrocio e che sarebbe opportuno installare un dosso per moderare la velocità. Dal terremoto del 9 novembre scorso la chiesa dei Capuccini di Pesaro è stata danneggiata e dichiarata inagibile. Ora però grazie ad alcuni gesti di generosità sono partiti i lavori per tentare di restituirla alla comunità con l'imminente messa della vigilia di Natale. Ci troviamo alla chiesa dei Capuccini di Pesaro probabilmente uno dei luoghi simbolo del sisma che ha colpito il nostro territorio il 9 novembre scorso quando la prima forte scossa di magnitudo 5.7 sfregiò di fatto la statua della madonnina dei Capuccini che domina sopra il cavalca ferrovia. Non solo la statua però fu danneggiata, la stessa chiesa fu dichiarata inagibile e inaccessibile ai parrocchiani dopo che il sopraluogo dei vigili del fuoco giudicò pericolanti le guglie sovrastanti. Da quel momento in poi tutte le funzioni religiose si sono tenute nella palestra qui vicino alla chiesa ma questo rituale potrebbe tornare nella sua casa proprio da un momento simbolico come la messa della vigilia di Natale. Questo perché Matteo Mercolini geometra dell'impresa Mercolini Torelli nonché parrocchiano dei Capuccini si è proprio mobilitato per restituire questa chiesa. Le gru della ditta De Angeli sono al lavoro insieme all'impresa proprio sulle guglie per restituire la chiesa appunto alla città. Siamo stati chiamati dalla parrocchia e grazie anche all'aiuto dell'ingegnere Filiaggi Riccardo abbiamo intrapreso tutta l'iter burocratico per riuscire a iniziare i lavori che sono lavori di messa in sicurezza delle cinque guglie che sono che i vigili del fuoco nel sopraluogo del giorno del terremoto hanno dichiarato pericolanti e quindi hanno chiuso la chiesa e quindi la messa e tutte le varie attività della parrocchia erano state spostate nella palestra. Io sono parrocchiano e tanti altri parrocchiani si sono messi in movimento con l'obiettivo comune di riuscire a riaprire la chiesa per la messa dalla vigilia di Natale ovviamente per Natale e tutte le festività. Lavori complessi ma si conta di rispettare questa consegna del 24? Ci stiamo provando in tutti i modi perché è un intervento un po' particolare che ci richiede un po' di tempo però facciamo i debiti scongiuri e speriamo di riuscirci in questi giorni e portare a termine il lavoro in questa settimana. E dunque la chiesa punta a essere restituita per la sera del 24 dicembre ai suoi parrocchiani ci vorrà un po' più di tempo invece per rivedere al suo antico splendore la statua della Madonna dei Cappuccini tempi diversi anche perché ci sono competenze diverse con il comune che assieme alla soprintendenza all'archeologia delle belle arti che si sta mobilitando per il ripristino di questa opera artistica. Ed ora cambiamo argomento torniamo a parlare di sanità perché dalle ultime delibere sulla riforma sanitaria della regione Marche emerge l'intenzione di creare una realtà ospedaliera provinciale con personale ruotabile nei quattro presidi di Pesaro, Fano, Urbino e Pergola. Una dinamica fortemente criticata dal consigliere regionale Andrea Biancani dopo la precedente bocciatura dell'ospedale unico. Ieri in consiglio regionale è stata discussa l'ennesima interrogazione che ho fatto rispetto al problema della sanità e in particolar modo rispetto alla nuova organizzazione sanitaria che prevede secondo una delibera che è stata approvata i primi di dicembre nella giunta regionale un ospedale unico, lo ripeto, un ospedale unico suddiviso in quattro sedi. Ricordo in particolar modo le sedi di Pesaro, Fano, Urbino e Pergola. In pratica il nuovo sistema ospedaliero sarà quindi formato da un unico ospedale con quattro sedi. Ricordo che prima delle elezioni i rappresentanti dell'attuale governo regionale avevano fatto le barricate contro l'idea del nuovo ospedale di Pesaro, che avrebbe tenuto insieme e quindi avrebbe cercato di razionalizzare quelli che erano i reparti con la creazione di un ospedale nuovo da oltre 600 posti letto che puntava all'eccellenza e già su quella scelta c'erano le barricate perché si diceva che la regione voleva chiudere gli ospedali. Oggi addirittura si parla non di un ospedale unico con due presidi ma addirittura di un ospedale unico con quattro presidi quindi Pesaro, Fano, Urbino e Pergola. Questo sta creando veramente notevoli preoccupazioni soprattutto del personale medico ma non solo, in generale del personale sanitario perché le persone potrebbero andare a lavorare non solamente a Pesaro o Fano ma addirittura potrebbero andare a lavorare a Pergola o Urbino. Ovviamente la stessa cosa vale per il personale di rentoterra quindi di Pergola e Urbino. Sicuramente questo non andrà a ridurre quelle che sono le dimissioni che sono aumentate nel corso degli ultimi anni del personale sanitario. Ricordo che già la Corte dei Conti aveva evidenziato pochi mesi fa che rispetto al 2020, nel 2021 c'era stato un più 39% delle dimissioni del personale medico che aveva deciso di andare a lavorare o in altre regioni o presso la sanità privata. Con questa scelta della nuova riforma sanitaria che prevede appunto un unico ospedale suddiviso in quattro sedi, questo potrà, dal mio punto di vista, non potrà fare altro che aumentare questa fuga del personale medico verso altre realtà. E torniamo a parlare di riscaldamento nelle scuole alla luce delle problematiche del caro Bollette. Il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, ha convocato subito dopo le feste di Natale un nuovo incontro con tutti i presidi delle scuole superiori per verificare la situazione e, se possibile, migliorarla, valutando le singole necessità degli istituti. Paolini ha già anticipato che l'intenzione è quella di modificare in contratti con il gestore, pagando quanto consumato con la misurazione dei flussi del calore, invece che sull'accensione generica per avere un riscaldamento che funzioni in modo omogeneo su tutti i plessi scolastici. Il Comune di Pesaro ha aperto un bando per creare una graduatoria con la quale saranno assegnati gli 82 alloggi di housing sociale previsti a Villa Ceccolini. Come già spiegato ai nostri microfoni dall'assessore Mila Della Dora, si tratta di un avviso pubblico rivolto a quelle famiglie che non riescono a soddisfare il loro bisogno abitativo sul mercato e che allo stesso tempo non hanno né i requisiti per accedere all'edilizia pubblica popolare né quelli per richiedere il sostegno degli interventi dei servizi sociali. Quello di Villa Ceccolini è il primo intervento di housing sociale effettuato dal Comune. Gli alloggi fra via Lago Maggiore e via della Tecnica saranno assegnati in locazione a canone convenzionato e per un periodo non inferiore a otto anni. Per partecipare al bando c'è tempo fino al 4 febbraio. L'acqua del nostro acquedotto è di ottima qualità certificata da un controllo costante. Educare a berla e porre attenzione ai benefici ambientali ed economici che derivano da tutto ciò è uno degli obiettivi di Marche Multiservizi che sta donando migliaia di borracce agli alunni delle scuole primarie della provincia di Peserurbino. Una borraccia oggi per formare i cittadini di domani. Anche un oggetto così semplice e rigorosamente realizzato con materiale riciclato può contribuire a salvare il pianeta soprattutto se messo direttamente nelle mani di coloro che il pianeta lo erediteranno. Lo sa bene Marche Multiservizi che sta proseguendo il suo tour nelle scuole per distribuire borracce ai giovanissimi alunni con lo scopo di sensibilizzarli all'uso dell'acqua potabile. Nei giorni scorsi si è fatto tappa alla scuola primaria Dezzi dell'istituto comprensivo Leopardi a Calcinelli di Colli al Metauro. Le borracce non solo sono un oggetto pratico e maneggevole all'uso ma concorrono a ridurre il consumo delle plastiche quindi delle bottigliette e questo va decisamente incontro alla linea seguita dal nostro istituto di rispetto dell'ambiente che vuol dire anche cura di sé cura degli altri tratti identitari forti del nostro lavoro. Siamo qui in questo istituto proprio per consegnare delle borracce che sono volte ad un'educazione ambientale passando proprio dagli primi ragazzi delle prime elementari per cercare di diffondere un senso di civico di utilizzo di uno spreco di una risorsa così importante come l'acqua abbiamo quindi aderito immediatamente con entusiasmo a questa iniziativa promossa da Marche Multiservizi ringrazio anche di essere presente qui con noi il dottor Tiveroli, Mauro Tiveroli che è l'amministratore delegato di Marche Multiservizi proprio per dare ancor più un segno di importanza a questa iniziativa. L'idea di lanciare questa iniziativa nelle scuole sta proprio nel fatto che vogliamo sempre di più sensibilizzare la collettività, i cittadini a bere l'acqua del rubinetto ed evitare il consumo di acqua minerale sia fatta non da slogan ma da tanti piccoli gesti quotidiani. Cominciare dai bambini riteniamo che sia un'ulteriore conferma della nostra attenzione in quest'ottica perché poi una delle missioni importanti di Marche Multiservizi è proprio la sostenibilità ambientale. Oltre alle borracce è stato consegnato anche del materiale informativo. La prima cosa da sapere è che l'acqua del rubinetto rispetta tutti i parametri di conformità e che per questo è assolutamente sicura. È importantissimo perché l'acqua del rubinetto viene potabilizzata con nuove tecnologie e grossi investimenti quindi è di buonissima qualità viene controllata oltre 120 volte al giorno quindi pensate quante analisi vengono fatte oltre 130.000 in un anno quindi acqua di ottima qualità buona, salubre ovviamente. Una campagna di sensibilizzazione fondata sulla concretezza dunque anche perché, va ricordato consumare acqua pubblica rappresenta anche un risparmio economico non indifferente. L'iniziativa di Marche Multiservizi mira a creare un nuovo paradigma culturale per andare oltre i pregiudizi e incentivare le cosiddette buone pratiche anche alla luce di un approvvigionamento idrico che il clima rende sempre più complesso. Oltre 1800 le borracce è distribuita agli alunni delle prime elementari. Dopo Calcinelli il tour è proseguito alla scuola primaria Vittorio Giunta di Tavuglia. Ancora prima si era fatto tappa a Pesaro, Urbino, Fossombrone e Cagli. Dobbiamo cercare di sensibilizzare i bambini soprattutto quelli più piccoli affinché usino delle abitudini che possano veramente cambiare un sistema. Andare in una direzione di utilizzare l'acqua anche per bere è quella che noi abbiamo a casa. Abbiamo la fortuna che ci arriva l'acqua a casa e non è scontato. I bambini speriamo che poi le famiglie, gli adulti seguano il loro esempio. Per una famiglia di tre persone un risparmio anno di 480 euro a famiglia quindi un risparmio consistente ma soprattutto abbiamo verificato che un terzo dei clienti di Marche Multiservizi il 31% circa utilizza acqua del rubinetto per cui c'è un margine importante risparmiando 17 milioni di bottiglie di plastica si potrebbe arrivare a una cifra ben superiore perché noi dobbiamo considerare che l'incentivo non deve essere solo quello del risparmio in bolletta ma anche della riduzione della plastica quindi con la conseguenza della CO2 perché la sostenibilità passa per queste piccole azioni. La vigilia di Natale terminerà lo shopping natalizio. Il 26 dicembre partirà invece la possibilità di fare acquisti e allo stesso tempo sostenere missioni caritatevoli. una possibilità offerta dal mercatino dell'usato che sarà organizzato nella parrocchia pesarese del Cristo Re. Fare beneficenza per aiutare i più bisognosi. Una delle tante leggi non scritte della vita viene ancora una volta ribadita dall'oratorio Don Bosco delle Marche attraverso due eventi natalizi in programma per gli ultimi giorni di dicembre. Uno sguardo verso l'altro che coinvolge numerosi ragazzi e persone di tutte le età provenienti da Marche Romagna attraverso il volontariato e l'aiuto rivolto ai più fragili. Dal 26 al 30 dicembre la palestra della parrocchia Cristo Re si travestirà da mercatino dell'usato frutto di una raccolta porta a porta di vestiti, accessori, elettronica, mobili e tanto altro. Un'iniziativa è diventata ormai un classico del Natale pesarese grazie all'impegno costante sul territorio da parte dell'oratorio Don Bosco dal lontano 2009. Il mercatino ormai è giunto alla sua dodicesima edizione lo faremo presso la parrocchia di Cristo Re in via le Cesare Battisti numero 3. Il tema fondamentale sarà quello del riuso e quindi rimettere in circuito materiale che le persone non utilizzano più andremo con i ragazzi a cercare casa per casa ma le persone potranno direttamente portarlo creando un circuito virtuoso. Un evento benefico che rappresenta un canale diretto verso le missioni dell'oratorio in America Latina. Il progetto di quest'anno per cui ci hanno chiesto una mano nella missione di Ancagnada è l'ampliamento di una casa del malato già presente che accoglie più di 60 malati di ogni genere e di ogni età bambini e più grandi malati con varie problematiche anche malati terminali. C'è bisogno di un ampliamento perché i posti non bastano più quindi verrà di una struttura che è solo un piano verrà alzata ha fatto un secondo piano per dare l'altra possibilità a 20-30 posti in più. Ci hanno chiesto un aiuto cerca una cifra di 25-30 mila euro ecco cerchiamo di fare questa raccolta. L'ampliamento della casa per i malati Madre Teresa del Perù sarà possibile portarlo a termine grazie anche al ricavato del cenone di Capodanno organizzato sempre dall'oratorio Don Bosco presso la palestra di Cristo Re. al mercatino dell'usato quest'anno la grande novità sarà il cenone di Capodanno che sarà appunto sempre lì nella parrocchia di Cristo Re bisognerà prenotarsi e anche questo cenone è preparato dai ragazzi dai giovani però avrà sempre uno sfondo solidale per cercare di dare un sostegno concreto alla missione. L'azienda dei servizi alla persona Catria e Nerone struttura residenziale per anziani ringrazia la fondazione Cassa di risparmio di Pesaro per il generoso contributo ricevuto per l'acquisto di 40 letti articolati che oltre ad essere più confortevoli per gli ospiti facilitano il lavoro degli operatori. Per la struttura si tratta di uno splendido regalo natalizio donato dalla fondazione che proprio quest'anno ha compiuto 30 anni. Taglio del nastro domenica scorsa per il nuovo campo da bocce nell'area sportiva di Gabicce Mare in via Aldo Moro realizzato da Hauser in occasione dei 30 anni di servizio di volontariato. Oltre ad acquistare i materiali ed affidare i lavori ad un'azienda specializzata Hauser e i suoi volontari hanno seguito i lavori ogni giorno e lo hanno visto nascere già dai primi scavi. L'ufficio tecnico del comune di Gabicce Mare ha supportato il progetto realizzando gli scavi il fondo di asfalto e dirigendo i lavori. Sarà un santo Stefano col pienone alla Vitrifriguarena dove lunedì sera la VL ospiterà la capolista Virtus Bologna dopo l'esaurimento dei biglietti messi normalmente a disposizione in stagione la società ha annunciato anche l'apertura del terzo anello di gradinata con biglietti a 10 euro e a 5 euro per i ragazzi fra gli 8 e 18 anni biglietti già acquistabili in prevendita al VL Point Pro di Sport di Pesaro e nei punti vendita Viva Ticket e concludiamo questo nostro telegiornale con un altro servizio di sport domani Marco Manzini sarà premiato dal comune di Pesaro per il titolo italiano paralimpico di Taekwondo conquistato la scorsa settimana quella di Manzini è una storia di tenacia e forza d'animo fuori dal comune che lo stesso atleta ha testimoniato ai microfoni intervistato dal nostro Antonio Astuti Marco Manzini 62 anni 10 anni fa ci fu un grave incidente ma Marco Manzini è la dimostrazione di come si può uscire da queste situazioni in maniera vincente campione italiano di Taekwondo paralimpico premiato dalla regione Marche inizio dicembre Marco una grande soddisfazione c'è molto perché i sacrifici sono immessi però io dentro me ho la voglia di arrivare la disabilità non è fisica è solo mentale la forza umana mentale di volontà è immessa l'importante della vita è credere in se stessi molto 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 perché noi tutti siamo forti l'importante è ammucarsi male e andare avanti Marco tu hai vinto diversi titoli questo non è il primo ormai sei un campione nazionale riconosciuto a diversi livelli ma io campione mi sento solo nella vita perché ho avuto tutta la morte e la palazzi perché quando mi hai detto Marco Manzini l'attacca che posso dare la vita dopo nove mesi intubati non mi avevo manco le dita mi sono alzato da solo di mia volontà ho soltato solo me stesso perché il potere della tua vita sei te tu sei stato protagonista di una vicenda che è stata ripresa anche a livello nazionale perché al tuo risveglio in realtà ha contribuito anche il grande campione del mondo Dino Zoff se di lui lo sento specialissimo mi vengono a trovare quando ero in tiro con la salita italiana per l'olimpia a Roma a Quaccettosa nel villaggio olimpico è venuto è stato con noi ha fatto le foto mi ha dato molti stimoli specialmente anche adesso prima della gara io l'ho chiamato che ero un po' nervoso e lui mi ha fatto Marco tranquillo fai quello che sai fare non pensare al risultato non pensare a quello che diceva il mio maestro lo confrontare con il suo maestro io ero lì concentrato ho pensato solo a me nel risultato agli avversari e non pensare alla gara molto prima della gara se non arrivi in gara mentalmente è sfinito come si allena un campione come questo in uno sport che comunque è così difficile che va interpretato in una maniera del tutto personale dunque il tipo di allenamento è molto sulla propriocettiva quindi sul sullo stimolare gli equilibri quindi ci alleniamo anche a volte bendati e cerchiamo proprio di andare a lavorare sullo specifico oltre che ovviamente sulla tecnica perché poi la tecnica è quella che poi in gara lui deve rappresentare e più di tutti noi il lavoro che facciamo è anche molte volte sull'equilibrio ma anche sul fattore psicologico perché con Marco bisogna lavorare molto deve essere stimolato molto a livello psicologico e quello che noi vogliamo fare con il Paro Olimpico che la federazione fa col Paro Olimpico tutte le federazioni è proprio quello dare una possibilità a tutti quelli che hanno avuto un problema un infortunio grave una disabilità grave dargli la possibilità di mettersi in gioco e di avere uno stimolo e un obiettivo per cui andare avanti e lavorare Ciao ragazzi buon Natale a tutti e passate la metà sorridete il doppio E allora davvero complimenti a Marco Manzini un grande campione nella vita e anche nello sport e questa sera invece vediamo cosa offre il menù di Rossini TV intanto alle 20 e 10 circa potrete trovare e vedere quello che è stato notturni oliveriani questa apertura per una notte del museo oliveriano che è stato veramente molto partecipato visto la partecipazione di tantissime persone se voi non avete potuto esserci beh bene stasera potete vedere una sintesi di ciò che è stato e poi alle 21 e 20 nella nostra prima serata l'ultima puntata di ci inviti a cena Nicoletta e Paolo questa sera saranno a casa di Riccarda quindi andranno a scoprire proprio a casa sua la sua cucina e anche la storia della sua famiglia e poi domani la nostra rassegna stampa puntuale vi aspetto alle 7 e 20 in diretta sul canale 80 e anche sulla nostra pagina facebook mentre domani sera attenzione una nuova puntata di insieme a canestro chiaramente una puntata di fuoco perché si parlerà anche della prossima partita di lunedì partita molto attesa ebbene il nostro Marco Cadeddu domani sera avrà Charalan Populos che è l'ala della Carpegna Prosciutto e poi anche Giancarlo Sacco che è allenatore e opinionista mi raccomando commentate in diretta perché potrete avere i biglietti gratis per la prossima partita questo è il numero di Whatsapp per commentare in diretta oppure potete anche commentare sotto la nostra diretta facebook ho detto davvero tutto carissimi amici vi auguro buona serata ci rivediamo domani mattina nella rassegna stampa per la prossima per la prossima per la prossima